Musica Benvenuti al consiglio d'appuntamento con le provisioni meteorologiche. Andiamo a vedere insieme il meteo per venerdì 15 febbraio. Avellino, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. I venti saranno moderati. A Napoli, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. I venti saranno moderati, mare poco mosso. A Salerno, cieli in prevalenza poco parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più dal pomeriggio. I venti saranno moderati, mare poco mosso. A Benevento, nubi sparsi alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti saranno moderati. A Caserta, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. I venti saranno deboli. Le temperature. Avellino, temperatura massima a 12 gradi, 3 gradi la temperatura minima. A Napoli, 15 gradi la temperatura massima, 7 gradi la temperatura minima. 15 gradi anche la temperatura massima a Salerno, 7 gradi la temperatura minima. Mentre a Benevento, la temperatura massima raggiungerà i 13 gradi, la minima 4 gradi. A Caserta, 16 gradi la temperatura massima, 3 gradi la temperatura minima. Ed è tutto anche per oggi. Musica 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 Autore dei sorrisi